Salve a tutti, sono il vostro Esselomb e nella lezione di oggi voglio insegnarvi come pronunciare correttamente dei luoghi presenti in tutte le città del mondo e quindi termini che possono essere sempre utili in vacanza o per lavoro. Cominciamo da la strada. La strada in portoghese si può definire rua oppure estrada oppure come italiano via. Per definire invece ristorante il ristorante in portoghese si dice restauranci. Se invece vogliamo cercare una pizzeria in portoghese il nome è molto simile si dice pizzeria. Se invece da buon turista vogliamo cercare una chiesa, una chiesa in portoghese si dice igreja. Se per un malanno abbiamo bisogno di una farmacia in portoghese farmacia si dice farmacia. Se purtroppo dobbiamo chiedere dell'ospedale l'ospedale in portoghese si dice hospital. Se invece stiamo cercando lo stadio di una città per andare a vedere una partita di calcio dobbiamo cercare l'estadio. Se invece cerchiamo un museo in portoghese il nome è quasi identico si dice museo. Infine se di sera ci vogliamo divertire e vogliamo andare in discoteca in portoghese noi dobbiamo cercare una discoteca o oppure una balada che è un locale notturno, un night club in Italia. Quindi ricapitolando i termini in portoghese abbiamo rua, estrada, via, restaurante, pizzeria, igreja, farmacia, ospitale, stadio, museo e balada o discoteca. Grazie a tutti e alla prossima lezione.